Ritornando a un'idea di sinistra, non le sembra paradossale che oggi un militante del cosiddetto Partito Democratico venga identificato come Renziano? Prima i militanti erano i comunisti, i socialisti, i democristiani, poi vi erano i leader, leader anche indiscussi e indiscutibili per statura politica e anche morale, i famosi leader della Prima Repubblica poi insomma tanto schiaffeggiati, però oggi esistono i Renziani, lei se dovesse essere definito al di là che espressione è leader di una corrente all'interno del Partito Democratico, le darebbe più fastidio essere identificato da un profano della politica, a quello è un Renziano o preferirebbe quello è un comunista? Beh, forse oggi nell'una nell'altra, la prima per le ragioni che in qualche modo ha accennato lei, la seconda perché non è più oggetto di, anche se quella è stata la mia palestra, la mia scuola di formazione, io ho scoperto la politica e la sinistra, questa parte del campo scegliendo un partito che era quello che lei ha appena ricordato, erano gli anni della segreteria di Enrico Berlinguer, la parte finale della segreteria di Berlinguer e però effettivamente per quanto fosse grandissimo, fortissimo il carisma di quella figura, lo si vide anche al momento della sua morte così improvvisa e tragica, credo che nessuno di noi allora pensasse di potersi definire berlingueriano, eravamo dei giovani comunisti iscritti a quel movimento politico. Infatti è questo che dicevo, malgrado la statura. No, no, malgrado la statura e il profilo e la forza di quelle personalità. Sì, non c'è dubbio, adesso lei pone una questione molto seria che riguarda la natura della politica, che cosa è diventata la politica in questi anni? Io non so se, io ho una figlia di poco più di vent'anni, quindi la domanda me la pongo guardando anche a questa generazione, appunto mia figlia e le sue amiche, mi chiedo a vent'anni la farei questa scelta di aderire ad un partito e poi tendo a rispondermi di sì ma nella logica che è quella che mi ha spinto fin da ragazza a pensare che la politica è l'appartenenza ad un campo, ad un partito. Partito, l'etimologia è parte, è il tentativo di capire qual è la parte della società che ti candidi a promuovere, a rappresentare, ad emancipare. Io penso che un partito ha un senso non in ragione del senso di appartenenza o peggio di fedeltà ad una leadership, perché poi le leadership anche quelle più autorevoli e non c'è dubbio che quella di Matteo Renzi sia una leadership molto autorevole, io l'ho riconosciuto il giorno stesso delle elezioni primarie, non ho mai avuto un dubbio su questo, però le leadership sono per definizione transitorie, ci sono oggi, si sviluppano, si evolvono e poi declinano e lasciano il campo ad altre. Un partito è invece una comunità. A me non piace l'espressione del partito ditta, so che Bersani lo dice con un tono bonario e naturalmente io ho grande stima di Bersani, però un partito politico non è una ditta, non è neppure una caserma, è una comunità. Sviluppa un senso di appartenenza ed è qualcosa che può, diceva quel leader che abbiamo citato un minuto fa, ed è qualcosa che può riempire degnamente una vita. Lei ha detto giustamente che il leader ha un percorso, nasce, cresce e poi di fatto magari costruisce un successore, ma c'è un grande paradosso in questo paese che non è soltanto della seconda repubblica ma appartiene anche alla prima, ma partiamo, anzi ragioniamo sulla finta seconda repubblica e sul fatto che lei abbia detto che sua figlia ha 20 anni. Un po' di più, non voglio adesso passare l'età. Benissimo, 21, ci siamo, frequenterà l'università. Sì, l'accademia. Bene, lei ci ha mai pensato che il primo vagito di sua figlia corrispondeva al primo giorno di politica di Berlusconi e ancora oggi la politica a Berlusconi, per dire Berlusconi perché è l'emblema della seconda repubblica, ma D'Alema vive da 30 anni politicamente. Ma vede, sì sì, no no, ci ho pensato. Sua figlia è nata, ha frequentato la scuola materna, elementare, media, superiori. 1992 e quando era adesso, è piacevole questa conversazione, meno ingessata di quelle a cui sono abituato, e quando era molto piccola canticchiava il jingle di Forza Italia che aveva quella musicalità e quindi è stata formata diciamo nella, non c'è dubbio che la generazione di ragazze... Ma non è berlusconiana? Ma adesso non parlo di mia figlia perché se la invitate sarà ben lieta di raccontarvi come la pensa, ma non c'è dubbio che la generazione che oggi ha 20 anni sia interamente formata dentro, per definizione, questo ventennio e con le sue contraddizioni, i suoi problemi. Quella di Berlusconi in particolare è un'anomalia incredibile se ci pensiamo un istante. Lei ha appena ricordato l'insediamento del suo primo governo. Berlusconi vince le elezioni il 27 marzo del 1994, quindi il suo governo si insedia di lì a un mese. Vuol dire che nel mondo i protagonisti della vita politica erano il presidente Clinton negli Stati Uniti, il premier inglese credo non fosse ancora Tony Blair che prenderà il potere soltanto un paio d'anni più tardi. Quindi noi davvero siamo un paese che ha conosciuto una continuità. Ma non è colpa di Berlusconi? No, beh, attenzione. Berlusconi ha una responsabilità che riguarda il suo campo, nel senso che lui più di altri e prima di altri ha sperimentato, anche con grande successo, bisogna riconoscerlo, un modello di partito che nella tradizione non soltanto italiana ma nella tradizione europea, vorrei dire nella tradizione occidentale delle democrazie, non era mai stato spinto sino a quella soglia di personalizzazione e di controllo del soggetto politico. Me lo lasci dire in modo polemico ma con una polemica che ormai fa parte della storia più che della cronaca. C'è l'emergere con il modello politico di Forza Italia di una concezione proprietaria e persino padronale del partito e lo si è visto nei passaggi successivi quando il dissenso sostanzialmente è stato marginalizzato fino ad essere estromesso perché il partito nasce intorno a un blocco di consenso ma anche di risorse finanziarie legate agli interessi del fondatore e proprietario di quel movimento politico e questa è un'anomalia. La grande responsabilità di Berlusconi, lo dico io che sono un uomo di sinistra, è di non avere dato compimento a quello che era stato il suo impegno iniziale fare una grande rivoluzione liberale di questo paese. La cultura liberale, le iniezioni di cultura liberale anche nell'azione di governo l'ha fatta il centro-sinistra se ci pensiamo a partire dalle privatizzazioni, dalle liberalizzazioni di Bersani di cui si è tanto parlato e in questo c'è anche un'anomalia che porta oggi la destra italiana ad una condizione di grandissima difficoltà perché ha un leader storico, quello di cui stiamo parlando che sostanzialmente è nella fase declinante crepuscolare della sua proiezione pubblica e politica, è sempre un uomo politico che ha avuto molto potere e oggi si trova in una condizione di minorità dal punto di vista anche della libertà di movimento. C'è un leader, tra virgolette, in ascesa, il leader della Lega, Matteo Salvini, che però interpreta un disegno politico diverso da quello della destra, tra virgolette, liberale del 94. È un disegno anche interessante perché l'idea di Salvini di trasformare la Lega Padana, diciamo, in una Lega nazionale sulla falsariga del modello politico e culturale del fronte nazionale francese, quindi un partito fortemente nazionalista, antieuropeo, contrario alla moneta unica. Vediamo anche le risposte che stanno dando in questi giorni i suoi esponenti alla tragedia che abbiamo visto a Parigi e in Francia. Ecco, è una destra che oggi è alla ricerca di una sua ricomposizione e riorganizzazione. In questo quadro la sinistra ha conosciuto anch'essa una forma di crescente identificazione con il leader, personalizzazione con il leader. Secondo me il merito di Bersani è stato quello di avere cercato di non, come dire, condannare il Partito Democratico ad essere in qualche modo subalterno alla sua leadership. Quando Bersani diceva, lo ricorda, non metterò mai il mio nome nel simbolo. Era un modo di dire che i partiti debbono vivere al di là del destino del loro leader. Continua ad essere affezionato a questo modello. Sarà condivisibile questa valutazione, però di fatto il Partito Democratico supera il 40% quando riceve la personalizzazione del partito con il leader Renzi. Ma non so se è un problema di personalizzazione. Il Partito Democratico scala quella vetta dolomitica del 48% all'europeo senza alcun dubbio, fondamentalmente per merito dell'energia, dell'impulso, del dinamismo e anche delle scelte politiche di Matteo Renzi. Però lo voglio specificare. Lui da un lato ha avuto una grandissima intuizione che ci ricollega alle cose che dicevamo all'inizio. Renzi ha capito che al settimo anno della crisi più grave eccetera 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 bisognava che la politica restituisse al Paese e in particolare a una parte del Paese un messaggio di speranza. E lo ha fatto. Lo ha fatto anche con quel tratto più esuberante, più istintivo, molto capace sul piano comunicativo che gli viene riconosciuto. Però mi lascia aggiungere solo una cosa. Quel 48%, io lo voglio dire con grande onestà, ho riconosciuto i meriti del segretario del mio partito e ho anche aggiunto che nessun'altra leadership del nostro campo avrebbe potuto arrivare dove è arrivato lui. Perché? Per la ragione che ho appena detto ma anche perché lui ha potuto fare delle cose, ha scelto di fare delle cose, ha scelto di dire delle cose che nessun'altra leadership del nostro campo avrebbe potuto dire e fare. Giusto sbagliate che siano. Su alcune io sono critico. No, lo voglio specificare. Su alcune posso avere delle posizioni. Non avete avuto coraggio. No, non è un problema di coraggio, è anche un problema di convinzione. Per esempio, il segretario del mio partito, anche nella veste di Presidente del Consiglio, ha detto pubblicamente delle cose sul sindacato italiano, sul movimento sindacale, sulla sua responsabilità e sul suo ruolo che io non avrei mai detto perché non le condivido. Il segretario del mio partito è arrivato a guidare il PD nelle modalità che conosciamo con le primarie del dicembre del 2013, come primo atto significativo della sua segreteria, ha invitato Silvio Berlusconi alla sede del Partito Democratico, stringendo con lui il patto del Nazareno. Molto probabilmente Enrico Letta, che guidava il governo in quel momento, o Pierluigi Bersani o Guglielmo Epifani, che aveva fatto la transizione nella guida del PD e che si erano impegnati fino a poche settimane prima in una battaglia per l'applicazione rigorosa della legge Severino e la decadenza del senatore Berlusconi del seggio che occupava a Palazzo Madama, non avrebbero potuto compiere quella scelta. E quindi ci sono delle dinamiche che io credo, è giusto riconoscere, sarei sciocco se dicessi che quel 41% giù di lì, conseguito all'europeo, non è stato merito fondamentale. Poi la campagna elettorale l'abbiamo fatta tutti, le assicuro. Io ho preoccupato che si dicesse che lavoravamo contro, rappresenta quell'immagine dei volatili notturni, gufi. Io mi sono impegnato in quella campagna elettorale più che alle primarie, ma non c'è dubbio che il merito fondamentale di quel risultato va debitato al capo del governo e al segretario del partito, però anche per le ragioni che le ho appena detto.